Siete curiosi di scoprire come ottenere il miglior suono dal vostro rullante? Tuffiamoci nel mondo dei materiali per la batteria! Per prima cosa, abbiamo il legno. È la scelta classica per un motivo. I suoi toni caldi e la risonanza naturale lo rendono perfetto per quasi tutti i generi. Acero, betulla e mogano sono i legni più utilizzati. Poi, parliamo del metallo. Pensate a suoni brillanti, nitidi e forti. Acciaio, ottone e alluminio vi regalano quel suono incisivo e penetrante che spicca nella musica rock e metal. E non dimentichiamo l'acrilico. È il jolly del gruppo. I rullanti in acrilico hanno un look audace e unico e un suono potente e aggressivo. E allora, qual è il vostro stile? Preferite il calore del legno, la chiarezza tagliente del metallo o la potenza accattivante dell'acrilico? Qualunque cosa scegliate, assicuratevi che si adatti al vostro stile e vi faccia sentire delle vere rockstar. Grazie per averci seguito. E ricordate il miglior rullante è quello che vi fa sentire come delle star. Continuate a suonare e siate fantastici.